buongiorno dolcissime dolcissimi vedete giugno come dorme è un amore è un amore oggi sono un po giù di morale mi piace dormire qua io ve l'ho detto chiamatemi giugno giugno il guardatelo come come dorme guardate guardate non mangerei meno mangiare di baci commentate qui sotto potete lasciare tutti i commenti che volete e io poi vi rispondo capito baci baci ciao